Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 per un nuovo What If, ovvero una nuova storia alternativa del mondo di Dragon Ball, il cui protagonista sarà Gokan, ovvero la fusione tra Goku e Gohan con gli orecchini Potara. Ragazzi, questo personaggio ve l'ho già mostrato qualche giorno fa, infatti in un precedente video, che vi lascerò chiaramente in descrizione e nelle schede in alto a destra, quindi se non l'avete visto recuperatelo, abbiamo visto le sue origini e come sarebbe stata la storia seguendo Dragon Ball Super. Oggi invece, su vostra richiesta, scopriremo la storia di Dragon Ball GT con Gokan. Io vi voglio davvero carichi al massimo perché vi mostrerò delle nuove trasformazioni oltre il Super Saiyan di quarto livello, quindi ragazzi andremo anche di gran lunga oltre Dragon Ball GT insieme a Gokan. Quindi mi raccomando, guardate questo video fino alla fine. Prima di parlare di Gokan, vi ricordo che questa domenica ci sarà il nuovo episodio di Dragon Ball F per scoprire tutte le novità e tutti i segreti di Re Vegeta mascherato. Seconda cosa molto importante è che c'è un giveaway in corso, grazie al quale qualcuno di voi potrebbe accapararsi un gioco completamente gratis. Il giveaway non lo faccio io, ma tranquilli, vi darò più informazioni tra poco nel corso degli scontri. Ragazzi, vi mostro subito questo Gokan con gli abiti da Kaioshin, poiché ragazzi ottiene l'ultimate Super Saiyan di terzo livello, quindi di già una trasformazione assurda ed è solo la prima di tante che vi mostrerò in questo video. Colui che lo aiuterà in una battaglia assurda sarà Goten. Quindi in pratica ragazzi, Goten è cresciuto chiaramente in Dragon Ball GT e lo andremo a scegliere. Ha un potere immenso e guardate quanto spacca anche questa mod. Lui ragazzi combatterà con noi, si sdoppierà, possiamo metterla così e quindi lo vedremo doppio. Chi sarà però il vero nemico? Ragazzi, i draghi malvagi. Infatti in questo universo alternativo di Dragon Ball GT, gli avvenimenti di Baby e quelli di Super Saiyan 17 non accadono. E ci sono direttamente i draghi malvagi a causa del fatto che ecco, vengono utilizzate le sfere del drago. Quindi abbiamo il primo drago, poi abbiamo anche Rage Sharon, quest'altro drago, e poi chiaramente Naturon Sharon. Ragazzi, sono dei mostri questi nemici che andremo ad affrontare, quindi buttiamoci subito nella battaglia. Chiaramente i draghi sono sette. Noi li conosciamo un po' tutti. Sì, oltre a questi tre abbiamo su Sharon, San Sharon, e poi c'è un drago che se non sbaglio è una donna. Non ricordo assolutamente il suo nome, però ragazzi, quello conclusivo è Omega Sharon o Super Inshilon. Ed eccolo qua ragazzi, guardate il suo sguardo incredibile! E parte subito una battaglia senza precedenti. Noi andiamo subito a ricaricare il nostro personaggio e ci siamo. Vediamo un po', non posso fare la trasformazione. Probabilmente ragazzi abbiamo bisogno di ulteriore potere. E ragazzi, Gokan è assurdo. Andiamo con l'Ultimate Super Seat di terzo livello! Mamma mia! Mamma mia ragazzi, ma cos'è? No ragazzi, se vi gasa questo personaggio dovete lasciare like ora. Mamma mia ragazzi, è davvero qualcosa di incontrastabile. Tranquilli, non mi sono dimenticato del giveaway, ne parleremo tra poco. Allora, noto che sti draghi sono davvero potentissimi. Ragazzi, ma noi stiamo controllando Gokan! Un grandissimo Saiyan con la Kamehameha Kaioken per 4! Mamma mia ragazzi, l'abbiamo distrutto eh! Attenzione! Allora, come vedete, questo dovrebbe essere uno dei draghi un po' più debolucci e nonostante tutto si può valere parecchio. Ma non potrà nulla contro Gokan! Ed è riuscito a resistere. Vabbè, sapete che vi dico? A questo punto proviamo a concludere direttamente con il Dragon Fist! Distruggilo Gokan! Vabbè, ormai la sua vita è davvero a zero. E ora restano gli altri due draghi, che a quanto pare ragazzi stanno mettendo fine alla vita di Goten, che per l'occasione si è anche sdoppiato, di conseguenza il suo potere si è diviso in due. Natron Sharon viene abbattuto. E vediamo, qualcuno si è ripreso! Ragazzi, è assurdo! Tutti sti draghi si stanno riprendendo? Noi glielo permetteremo! Andiamo col Dragon Fist! Devastalo! E l'ultimo nemico da abbattere, vediamo un po', è Aze Sharon. Che ragazzi miei, anche egli, farà una bruttissima fine. Vai così! Abbattilo con la Kamehameha Kaioken per 4! E ragazzi, dobbiamo eliminarlo subito! Vai, distruggilo! Gli ultimi colpi e ce l'abbiamo fatta! Mancavano due secondi, un secondo, e Gokan, Ultimate Super Saiyan di terzo livello, ha abbattuto completamente tutti i suoi avversari. Questo personaggio mi piace sempre di più, e credo che lo stesso valga per voi, perché in tanti mi avete chiesto di introdurlo in Dragon Ball AF. In ogni caso, ragazzi, questo personaggio raggiunge il Super Saiyan di quarto livello in maniera incredibile. Ragazzi, Gokan riesce ad abbattere tutti quelli che sono i draghi malvagi, compresi, chiaramente, Nova Sharon ed Ace Sharon, fino ad arrivare ad Omega Sharon. Ed è arrivato anche il momento di parlare un po' del giveaway, e guardate quanto spacca Gokan! Mamma mia, ragazzi! Allora, partiamo dal fatto che il giveaway non è fatto da me, ma da Instant Gaming. Mi permette di ricevere un gioco gratuitamente, credo un qualsiasi gioco, praticamente uscito anche ieri, mettiamola così, o anche quelli vecchi, qualunque volete. Vi lascio il link in descrizione per prendere parte al giveaway, vi basta cliccare tipo partecipa, dovete scegliere, mi pare, il gioco che vorreste, e poi colui che verrà scelto, verrà contattato direttamente da Instant Gaming. Ragazzi, Omega Sharon sembra essere molto più potente di quanto ci aspettassimo. Forse in questo universo alternativo, il Super Saiyan di quarto livello non basta per abbattere Omega Sharon. Chi lo sa? In ogni caso, eccolo qui, il Dragon Fist che non riesce a colpire l'avversario, abbiamo però il Masenko per 10. Ragazzi, bellissima sta mossa. Credo che non sia inclusa normalmente nel gioco, è una mod. Guardate, cioè ragazzi, bellissimo. Mamma mia, e gli abbiamo distrutto il vigore. E poi vabbè, abbiamo l'Instant Charge che ci permette di andare alle sue spalle. Troppa roba. Ragazzi, è bellissimo tutto ciò e guardate la sua vita. Noi ragazzi andiamo anche col Kaioken per 20. Mamma mia, mi sto gasando troppo, eh. Mi sto gasando davvero troppo e vediamo le sue mosse. Peccato che abbiamo il Kaioken che ha mia mia per 4 e non quella per 20. Ma è anche arrivato il momento, ragazzi, di abbattere completamente il nostro avversario, così, con il Super Dragon Fist e nulla. Riesce a lanciarci via, non ci credo. Super esplosione dell'aura, vai così. Gokan, abbattilo! Ed è arrivato il momento, no. Ragazzi, non ci credo. Il nostro vigore è caduto completamente a terra. Come vedete, ci prova ad abbatterci e il suo potere cresce sempre di più. Ragazzi, Omega Sharon sembra nascondere qualcosa che Gokan non riesce a comprendere. Un potere sopito in sé che forse racchiude davvero tutti e sette i draghi e tutte e sette le sfere del drago, da cui apparentemente riesce ad ottenere sempre più energia. Ma noi ragazzi dobbiamo assolutamente concludere. Andiamo col Kaioken e qua ragazzi concludiamo col Dragon Fist. E nulla! Ci riproviamo ora! No, ragazzi, assurdo! Riesce a pararsi più e più volte. Ma noi lo abbatteremo negli ultimi secondi di vita! Vai così! Riproviamoci! Gokan! Vediamo! Nulla! No, vabbè ragazzi, assurdo tutto ciò. Lo distruggiamo! E godiamocelo! Mamma mia, nulla! È tutto finito, proprio sul più bello. Ma Gokan riesce ad abbattere completamente il suo avversario. O almeno questo è quello che tutti noi speravamo. Perché ragazzi, ecco qui. Omega Sharon dimostra un potere oscuro. E guardate questa mod. Ragazzi, è davvero cattivissimo! Guardate la sua faccia e la sua oscurità. E queste sono le sue mosse che credo siano nel complesso moddate. Quindi ragazzi, ritorniamo subito nello scontro con Gokan, Super Saiyan di quarto livello. Ed è qui che forse sarà davvero finita per Gokan. Vediamo quello che succederà. E guardate lo sguardo malvagio! Guardate come sbrilluccica! Ragazzi, Dark, Omega, Sharon è realtà. Ed è un mostro cattivissimo! Allora, proviamo subito ad utilizzare tutte le mosse. Anzi, per farlo devo prima ricaricare la mia aura e guardate la Dragon Charge! Sarebbe la carica del drago! Mamma mia, ragazzi! È davvero assurdo! Guardate il potere che è riuscito ad esprimere! Proviamo subito col Dragon Flash Bullet! E questo è quello che un po' tutti già conosciamo anche se con piccole modifiche. Poi abbiamo la Dragon Claw che praticamente credo lo colpisca ecco, in lontananza più volte. È una sorta di attacco come quello di vediamo se qualcuno di voi indovina spesso vi faccio indovinare le mosse ma questa volta il nome è diverso almeno credo e soprattutto anche l'estetica è diversa. Vediamo se indovinate dai ragazzi dovreste indovinare. Bam! Anche questa mossa conclusiva dovrebbe chiarire tutto. E poi abbiamo il Dragon Thunder! E questo è quello che permette di colpire il nemico quando praticamente gli stiamo dando le spalle. Esatto. Quindi per ora a meno che non ci si pone davanti l'occasione è inutile provare ad utilizzarlo. Tra le mosse abbiamo la Serious Bomb! Mamma mia ragazzi era bellissima e credo fosse oscura. Ragazzi indovinate di chi è questa mossa dai voglio proprio vedere avete da indovinare ben due mosse stavolta. Ragazzi notate come ci sta malmenando malamente Gokan quindi è un personaggio davvero che ha tanto tantissimo da dire. Allora noi proviamo subito ad allontanarlo BAM e andiamo col Dragon Claw ancora vai così lancialo via e nulla riesce comunque ad avvicinarsi a noi si vede ragazzi il potere di Gokan vai così lanciamolo via e niente da fare allora proviamo a ricolpire con la Super Bomb e stavolta va a segno tolgo tutto l'HUD e guardate come mi gasa distruggilo gli abbiamo fatto anche un bel po' di danni e con la Dragon Charge guardate il potere del Drago ragazzi trema tutto non si capisce più nulla ed è questo il bello ragazzi il potere del Drago finalmente potrà essere espresso appieno ed ecco qui la Minus Energy Power Ball che lo distruggerà ragazzi Gokan morirà davvero? il potere oscuro di Dark Omega Sharon sembra essere incontrastabile ma è in questo momento che Gokan si fa valere per Gokan è giunto il momento di esprimere il suo vero potere con il Super Saiyan di quinto livello ed ecco a voi questo potere incontrastabile per lui sarà abbastanza per sfidare Dark Omega Sharon lo andremo a scoprire ora insieme quindi ragazzi ci buttiamo nello spazio della terra ed è qui che ci sarà la battaglia finale che va ormai anche oltre di gran lunga Dragon Ball GT scopriremo se l'intero universo verrà salvato o meno da Gokan ed eccolo qua mamma mia ragazzi il Super Saiyan di quinto livello spacca troppo davvero gasa troppo ragazzi e se siete davvero gasati come me pollice in su mi raccomando fatevi sentire se davvero volete altri votif io vedo che vi piacciono un botto con Dragon Ball AF stiamo scassando praticamente tutto non abbiamo rivali di conseguenza sono davvero contento che lo stesso valga anche poi per i semplici votif quindi ragazzi è davvero tanta roba e questo non lo dico io chiaramente lo dite voi quindi è quello che mi rende ancora più felice ragazzi andiamo proviamo con la Kamehameha Yoken per 20 ma nulla riproviamoci ora proviamo ad abbatterlo e fa il suo teletrasporto ragazzi è davvero potentissimo ed ora però non potrà difendersi Kamehameha Yoken per 20 mamma mia ragazzi quanta vita gli abbiamo tolto Gokan più potente che mai qui eh dovete ammetterlo quindi ragazzi eccoci qua per ora potrei anche utilizzare il Kaioken ma non mi va perché ci metterebbe forse troppo in difficoltà in uno scontro come questo consuma troppo vigore di conseguenza Gokan potrebbe uscirne perdente e non vincitore ragazzi dobbiamo stare molto molto attenti andiamo con uno stamina break vai così lo buttiamo giù ragazzi e andiamo con la super spirit bomb mani al cielo mio caro Gokan e distruggi completamente il tuo avversario vai così spirit bomb mamma mia ragazzi lo abbiamo colpito oppure no ragazzi la super sfera gankidama non ha raggiunto l'avversario questa purtroppo non ci voleva ma nonostante tutto non ci fermiamo andiamo con la Kaioken no cos'è la kamehameha per 20 solitamente ragazzi esiste solo quella per 10 quindi questa per 20 è praticamente una mod si guardate lo stiamo lanciando via abbiamo il meteor crash vabbè che aveva anche Gokan nella sua versione che conosciamo di già e distruggiamolo lo lanciamo via ragazzi e andiamo con la no ci ha fermati proviamo a colpirlo ora e concludiamo definitivamente con una kamehameha devastalo così ragazzi Gokan super saiyan di quinto livello salva l'intero universo e quindi non ha rivali mamma mia quanto spacca questo del super saiyan di quinto livello per Gokan è davvero un potere assurdo fatemi sapere se questo personaggio vi è piaciuto e soprattutto se vi è piaciuto anche Dark Omega Sharon mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale cliccando qui al centro se non l'avete ancora fatto vedete le origini di Gokan se non le avete ancora viste vi lascerò ecco le schede su cui cliccare e mi raccomando cliccateci per vedere i nuovi video di Dragon Ball quindi alla prossima ciao